Salve a tutti, sono Gianfranco Marini, benvenuti alla bottega didattica per il fai da te con le tecnologie dell'apprendimento e della conoscenza. Guide certificate per una durata superiore ai 10 minuti perché l'arte è lunga e la vita è breve. In questo video tutorial vorrei presentarvi Participate, un ambiente online per creare raccolte selezionando risorse dal web su un certo tema e gestirle in modo individuale o collettivo. Ho conosciuto questa risorsa grazie a Richard Byrne che è un blogger esperto di tecnologie dell'apprendimento e dell'educazione e che nel suo blog Free Technology for Teacher e nel suo canale YouTube presenta centinaia e centinaia di strumenti e contenuti interessanti da un punto di vista didattico. indicherò questi link nella box descrittivo del video su YouTube. Che cos'è Participate? Abbiamo detto che è una piattaforma online, free, per la collaborazione in che cosa? A cura dei contenuti, cioè nella ricerca di risorse che noi selezioniamo dal web per poi organizzarle in collezioni. Risorse intorno a un determinato tema o problema di rilevanza didattica, educativa, possiamo quindi creare queste risorse o da soli o collaborativamente, quindi con dei collaboratori che possono essere altri nostri colleghi o gli studenti, per poi presentarle a una determinata utenza, che in questo caso potrebbe essere, non so, una classe di studenti, per condividerle con loro a supporto del nostro percorso formativo. Ma per capire l'importanza della cura dei contenuti e l'interesse di partecipare come strumento per praticare la cura dei contenuti, e dobbiamo cercare di capire qual è il problema a cui la cura dei contenuti può far fronte. Bene, il problema è un problema chiave, strategico, decisivo e fondamentale, scusate la sequela di aggettivi, è quello del sovraccarico informativo. Ogni giorno vengono pubblicate sul web milioni di informazioni, nessuno è individualmente in grado di seguire neanche una piccola parte di quelli che sono i post o comunque i contenuti pubblicati in quello che è il suo ambito o di interesse. Individualmente è impossibile fare quello. L'accesso che noi abbiamo a questi contenuti è quello mediato dai social media e dai motori di ricerca come Google, che però seguono strategie di profilazione. Cioè in realtà i contenuti a cui noi accediamo sono quelli che ci vengono proposti, in base al nostro comportamento infatti veniamo profilati, e in base a questa profilazione ci vengono presentati contenuti, per esempio pubblicitari, ma anche su Facebook per esempio quei post che si conformano agli algoritmi con cui siamo stati profilati. E naturalmente questi algoritmi di profilazione e la logica stessa della profilazione analogica sempre manipolatoria, uso questo termine nel senso né buono né cattivo, semplicemente si tratta di in qualche modo guidare il nostro comportamento in rete, la nostra navigazione. In genere questo avviene per finalità che sono quelle del profitto, la pubblicità per esempio, ma può avvenire anche per altri tipi di finalità. Ora, se vogliamo sottrarci a questo, e se vogliamo impostare una strategia consapevole, critica, intelligente, per navigare sul web, per accedere alle informazioni, alle risorse che esso ci fornisce, non possiamo che far ricorso a quella che Levi chiamava l'intelligenza collettiva. E cioè, quell'operazione di filtraggio dei contenuti della rete non può che avvenire attraverso la collaborazione tra persone diverse, attraverso una rete quindi personale che ciascuno di noi si crea, entrando in contatto con altri. E' in questo modo che opera l'intelligenza collettiva ed è in questo modo che noi possiamo validare, certificare, ricercare prima di tutto e poi validare e certificare le informazioni e i contenuti pubblicati sul web, individuando quelli che realmente ci interessano in base appunto alle nostre esigenze e anche avendo maggiori probabilità di accedere anche a informazioni valide, proprio perché sono il risultato di un'opera di filtraggio che è condotta da un gruppo di persone, centinaia, migliaia all'intelligenza collettiva, di persone, ciascuno con la propria competenza e la propria esperienza, che quindi sono in grado insieme di, come dire, separare il grano dall'olio. Ciò che è buono da ciò che è cattivo. La cura dei contenuti e quell'insieme di procedure che ci consentono di esercitare concretamente tale operazione di filtraggio. Participate quindi serve per curare, curare in questo senso, e quindi supporta quella che è la logica della ricerca, dell'indagine, e può servire per che cosa sul piano didattico? Per esempio nella preparazione di un progetto, che può essere una semplice presentazione, un video, anche qualcosa di più complesso, in questo caso avremo bisogno di raccogliere ordinatamente le risorse funzionali al nostro progetto, ordinandole secondo determinati criteri, per esempio le immagini, per esempio i testi, per esempio le fonti e così via. Ci permette di individuare risorse educative su un certo argomento, disciplinare o interdisciplinare, e quindi video, testi, documenti, articoli, documentari e così via. Ci consente di venire pienamente consapevoli e padroni di quelli che sono gli strumenti di ricerca del web. Ci consente di creare album, raccolte, di archiviare insomma tutti i documenti che noi produciamo nel corso del nostro percorso educativo, materiale tratto da esperimenti fatti in laboratorio, uscite didattiche, progetti, attività, eccetera, raccoglierle ordinatamente in album e in raccordi, o ci permette di creare dei portfolio delle nostre attività, delle attività dei nostri studenti e così via, insomma le applicazioni sono tantissime. Ma andiamo adesso a vedere questo strumento. Una volta che ci troviamo sulla home page di Participate, basterà cliccare in alto a destra Sign Up e comparirà il solito modulo di registrazione, nome e cognome, indirizzo mail, la nostra password, la password che decidiamo di scegliere, e quindi possiamo creare il nostro account. riceveremo una mail che ci chiederà di confermare il nostro indirizzo, l'indirizzo che abbiamo scritto, digitato qui. Bene, possiamo fare la stessa cosa, cioè registrarci anche attraverso questi social media, Twitter, Facebook, Google, eccetera, eccetera. Io mi sono già registrato, quindi procedo a logarmi, digitando mail e password. Ci troveremo nella nostra scrivania di Participate, nella nostra dashboard. In alto a destra abbiamo il solito menu che ci permette di aggiornare il nostro profilo, per esempio cambiare la foto, io non l'ho ancora inserita, oppure editare il nostro profilo, inserendo la nostra biografia, scegliendo il livello di istruzione di cui ci occupiamo, e così via. non possiamo editare anche altre configurazioni, per esempio vogliamo o non vogliamo email di notifica, ma io passerò invece, tornando su dashboard, a illustrarvi soprattutto le collezioni. Cliccando in questo menu su Collections, ci recchiamo nell'area di lavoro dove possiamo creare delle collezioni. Io ne ho già creata una, per crearne un'altra posso farlo da qui, New Collection, oppure direttamente da qui. Dovrò dare un nome alla collezione, per esempio Storia della Seconda Guerra Mondiale, e posso inserire una descrizione, risorse, per studiare, eccetera, eccetera. Una volta che ho concluso, passo a Next, e devo a questo punto decidere che cosa. Questa mia collezione deve essere visibile a tutti, può comparire sui motori di ricerca, insomma in altre parole, deve essere pubblica, quindi chiunque può vederla, oppure deve essere nascosta, dove nascosta vuol dire che solo chi ha il link può vedere questa collezione, collezione, quindi in questo caso io non voglio che nessuno veda la collezione, solo i miei alunni, cliccherò su Eden e poi fornirò loro, via mail o via social, il link della collezione. Oppure privata, in questo caso solo io e le persone che decido io, dietro invito, tramite email, potranno vedere la collezione. Adesso otteniamo la privata, perché è una collezione che sto realizzando solo per prova, e salviamo. Bene, andiamo direttamente alla nostra collezione, eccola qui, come vediamo è vuota, per aggiungere risorse mi basterà cliccare su questa croce, e un più, e posso o aggiungere un link, come farò adesso, o caricare dei documenti che ho sul computer, quindi proviamo prima il link, io mi sono già procurato un link di un video, incollerò qui l'indirizzo, next, e a questo punto vedete abbiamo già un titolo, e posso inserire un'immagine cliccando qui, io in questo caso non inserirò nessuna immagine, e una descrizione che può essere relativa al contenuto del video, o relativa a ciò che gli studenti devono fare con questo video, per esempio, osserva, eccetera, eccetera, una consegna, un'istruzione. A questo punto salvo, e la mia risorsa comparirà qui. Usiamo la stessa procedura adesso per un altro documento, quindi aggiungi una risorsa, altro link, in questo caso un articolo sulla seconda gramma mondiale preso dall'enciclopedia, via tre cani, qui c'è già anche la descrizione, salviamo, in questo caso avrei potuto aggiungere anche un'immagine più specifica, ma lasciamo così. E proviamo adesso ad aggiungere una risorsa, caricandola dal nostro computer per vedere come si fa. Bene, posso trascinare la risorsa in quest'area celeste, oppure cliccare, ho preparato questa cartina, la caricherò. Andiamo al passaggio successivo, posso inserire una descrizione, prendo la mia cartina della seconda guerra mondiale in Europa, eccetera, eccetera. E salvo. A questo punto avrò tre risorse, posso anche riordinarle, clicco qui, vedete ho un altro tipo di visualizzazione, per esempio voglio mettere per prima la cartina, ho riordinato, e a questo punto ripassiamo a questa visualizzazione. Cosa posso fare per ciascuna risorsa? La convenzione dei tre puntini orizzontali indica la presenza di un menu, posso editare la risorsa, rimuoverla, o aggiungerla a un'altra collezione. Per editare la risorsa, vedete, si riapre questa finestra, e posso per esempio togliere questo brutto titolo e modificarlo. Bene, in questo modo ho creato una risorsa. Cosa posso fare adesso? Vedete che qui posso inserire dei collaboratori. Cliccando su collaborator, ho un altro pulsante, in questo caso ci sono solo io, gestione dei collaboratori. Vedete, io clicco qui e adesso a caso, questo è il mio A, eccetera, eccetera, seleziono uno di questi, e invio, posso anche aggiungere un messaggio personalizzato, invio la mail, da questo momento ci sarà un altro collaboratore. Naturalmente adesso non invio nulla, e quindi la bacheca, la raccolta, potrà crescere collaborativamente. Possiamo immaginare di avere in una classe diversi gruppi di studenti che si occupano dei vari aspetti di un certo tema, ma le cause della seconda guerra mondiale, l'andamento, l'Italia, la seconda guerra mondiale, la Shoah, e così via. Qui abbiamo discussion, la possibilità di inviare messaggi ai nostri collaboratori. Solo noi, i nostri collaboratori, potremo vedere questi messaggi, questo può essere utile per scambiare idee, interagire con i colleghi o con gli studenti. Possiamo anche, vedete, editare la privacy, io lascio, chiedo scusa, scegliere la configurazione della privacy, io qui lascio nascosto, oppure aggiungere i tag alla nostra collezione. Ricordo che aggiungere una descrizione della nostra raccolta, aggiungere dei tag, è molto importante se la vogliamo rendere pubblica, ma anche se abbiamo molte raccolte, vogliamo cercare all'interno delle nostre raccolte una qualche risorsa. Inoltre, saper usare la descrizione, i tag, usare bene la titolazione, rientra in quelle che sono le competenze generali per utilizzare qualsiasi app web o per dispositivi mobili, insomma, è un po' la grammatica di queste applicazioni, imparare la grammatica di queste applicazioni. Bene, vediamo che altro possiamo fare. Posso cercare, nell'archivio di risorse già presenti su Participate, risorse sulla seconda guerra mondiale. Second World War, se il mio primitivo inglese mi assiste. Ecco, vedete, e mi compariranno tante risorse. Vedete, queste sono risorse sulla seconda... è una collezione di risorse sulla seconda guerra mondiale, la guerra fredda, insegnare la seconda guerra mondiale. Perché ho voluto farvi vedere questo? Per farvi capire quello che dicevo prima, quando parlavo di filtraggio intelligente e collaborativo. Andrew Garrett e Spencer Rilley non sono dei motori di ricerca, sono degli insegnanti che hanno già creato una raccolta di risorse, che probabilmente l'hanno già usata, quindi l'hanno già vagliata, ne dovrebbero aver già certificato l'attendibilità, eccetera. O li posso seguire, o addirittura posso entrare nella loro collezione, verificare le risorse che ha raccolto, e magari, ecco, una timeline sulla seconda guerra mondiale, magari mi occorre, clicco sul menu, aggiungo la collezione, e scelgo tra le mie collezioni, non solo due, quella a cui aggiungerla, add, e ho aggiunto questa risorsa. Naturalmente queste sono quasi tutte risorse in inglese, ma vedete che è interessante, queste sono tutte le risorse, ma le abbiamo ordinate in tanti modi possibili, per contenuti, per tipologia di contenuto, o per livello pre-school, come si dice, scuola dell'infanzia, elementare, superiore, eccetera. Bene, possiamo addirittura aggiungere, per esempio, un'intera raccolta, cliccando sul pulsante add, alla nostra collezione. Ma, quello che volevo anche dire, è che possiamo seguire qualcuno di questi curatori. Naturalmente potremmo renderci conto che il suo modo di procedere, il suo modo di postare l'attività didattico-educativa non ci interessa, ne seguiremo un altro, finché non troviamo 3-4 di queste persone che soddisfano tutte le nostre esigenze e che quindi ci aiutano nel nostro lavoro senza volerlo. Bene, torniamo adesso alla nostra dashboard. e vedete che qui abbiamo già due raccolte. Posso, o per ogni raccolta, vedete, posso anche aggiungere una mia collezione a un'altra mia collezione. In questo caso io rientro nella mia raccolta per farvi vedere che cosa, come condividerla. Bene, per condividerla, naturalmente ho dovuto modificare l'attributo della privacy perché è privato, non posso condividere. Abbiamo hidden, è nascosta, share collection, e vedete posso copiare il link oppure posso prelevare l'e-frame, cioè il codice di incorporamento per incorporarla nel mio blog, nel mio sito di classe, eccetera. Oppure posso utilizzare i social media, qui ce ne sono tre, twitter, facebook e linkedin, oppure ancora via mail. A questo punto avrò concluso tutte le operazioni più importanti per creare e gestire una collezione. Quindi concludo anche il mio video tutorial, vedo con soddisfazione che ho ampiamente superato i dieci minuti, vi lascio con un augurio di buona giornata per tutti.